Grazie all'impegno del Parco del Pollino di Calabria Verde del Comune di Civite della sezione del Club Alpino Italiano di Castrovillari è stato consegnato il rifugio Collè Marcione a Civita al CAI di Castrovillari. Un sogno che diventa realtà. Finalmente questo rifugio torna a nuova vita. Grazie al Parco Nazionale del Pollino che ha dato i contributi per poter ristrutturare questo immobile, grazie a Calabria Verde che ovviamente è il proprietario dell'immobile e al Comune di Civite che ha curato i lavori di ristrutturazione. In realtà noi come CAI, Castrovillari, siamo i fruitori finale di questa struttura e la cosa ci onora moltissimo perché comunque siamo un'associazione che in realtà in tutta Italia gestiamo dei rifugi proprio del CAI. Quindi per noi è un riconoscimento al nostro sodalizio fondamentale perché un sentiero che non abbia un rifugio per strada, da dove uno può ristorarsi, rinfrescarsi e tutto quanto, ha anche una valenza meno importante. Un punto di riferimento importantissimo per gli amanti della montagna in un posto altrettanto importante, crocevia di molteplici attività sportive. Significa anche una riconificazione del nostro territorio perché noi guardiamo di solo da Valle verso Valle del Raganello, Ponte del Diavo. Ci sono tantissimi turisti che amano la montagna, la nostra montagna, e questa struttura può essere un ottimo fenomeno per quanto riguarda il discorso del turismo mondano e quindi mi auguro che con l'aiuto del CAI si possa raggiungere l'obiettivo che ci devo previsti, quello di ottenere una visualizzazione della nostra montagna in modo particolarmente bella che comprende tutto quanto il nostro territorio. Colle Marcione è da sempre definito come la porto orientale calabra del Parco Nazionale del Pollino. Io credo che questi rifugi per evitare che tornino nuovamente a ripiombare in uno stato di abbandono necessitano di una ottima gestione. Io credo che oggi queste strutture possono essere gestite non in maniera improvvisata, ma richiedono grande professionalità, grande passione, grande impegno e soprattutto strutture che abbiano anche una storia rispetto ai temi di quello che una volta era considerato il grande camminamento sulle nostre montagne. Il CAI, sicuramente il centro alpino italiano, può essere un punto di riferimento importante. Dopo i vari allestimenti come funzionerà il rifugio? Ovviamente su prenotazione funzionerà come l'altro rifugio che noi abbiamo anche a Campolongo di Mormanno, ci sarà un numero chiaramente di riferimento dove uno può prenotarsi e da qui usufruire di i sentieri del CAI che sono già segnati, i sentieri del Parco del Pollino e tutto quello che comunque alpinisticamente è disponibile nella parte alle spalle del rifugio, delle timpe, che sono dei luoghi dove gli alpinisti provenienti da tutta la regione e anche dalla Puglia hanno segnato delle vie alpinistiche molto belle.